bentornati su my football jersey oggi vediamo la quarta maglia del paris saint germain in edizione player la versione fan l'avevo già vista e trovate il link qui sopra la maglia da calcio jordan paris saint germain 22 23 ha una combinazione di colori diversa rispetto a tutte le precedenti maglie jordan per psg è principalmente nera combinato con il giallo per i loghi ufficialmente i colori sono black tour yellow e non esiste un terzo colore ciò che rende unico il quarto kit paris 22 23 è un design unico di linee geometriche all over in giallo questo design si ispira alla città di parigi di notte pantaloncini e cazzettoni neri completano il kit la maglia authentic è la versione indossata in campo dalla squadra la vestibilità più aderente rispetto alla versione fan è progettata per il fisico dell'atleta questa maglia è bellissima l'avevo già vista in versione fan l'ho voluta riprendere in versione player perché secondo me è spettacolare e nella mia classifica questa prende 5 stelle straordinario il tessuto della versione player qui in alto trovate il costo molto basso per una maglia che ha un'ottima qualità bellissime rifiniture e dei tempi di spedizione molto veloci in descrizione qui sotto trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia andate a vedere questa e altre bellissime offerte che il sito prepara per voi ora prima di lasciarvi la parte finale regalateci un grande like e iscrivetevi al canale è l'unico modo che avete per farci crescere ed avere sempre nuove recensioni in futuro ciao alla prossima io sono alto un metro e 75 e peso 70 kg circa quella che vedete è una taglia a large della versione player